Dunque, ieri un'importante decisione da parte della Cassazione rispetto alla querella giudiziaria sull'inquinamento del sito di Bussi sul Tirino. Una storia che è partita da una delibera della provincia di Pescara, a cui Edison si è opposta in ogni modo, ma ha avuto alla fine torto. E' stato riconosciuto come unico soggetto inquinatore del sito industriale dismesso. Ne parliamo in diretta con il nostro Paolo Durante, che si trova proprio a Bussi, e proprio sul luogo del misfatto in qualche modo. Con lui alcuni ospiti. A te Paolo, buon pomeriggio. Grazie Carmine, buon pomeriggio. Ci troviamo proprio qui nei pressi della discarica 2A e 2B. Vicino a me c'è Antonio Di Marco che ringrazio, poi parleremo anche con altri due ospiti. Di Marco, ovvero potremmo dire dove tutto ebbe inizio, perché lei da presidente della provincia dell'epoca, era il 2018, uno dei primissimi impegni che si prese fu proprio la bonifica di questo sito. Insomma, Edison non può più ritardarla questa bonifica ora. La data dell'ordinanza è del 26 giugno 2018. Io mi insediai nel 2014 e venni qua il 15 ottobre 2014, dicendo esattamente quello che ho fatto poi nel tempo e che occorreva assolutamente arrivare a fare chiarezza sulle responsabilità dell'inquinamento. È un successo, questa è una vittoria schiacciante ai danni di Edison, che è una vittoria dell'Abruzzo, dell'Italia che crede ancora nelle istituzioni che assumono in pieno le proprie funzioni e portano a termine le procedure necessarie. Con il segretario generale Pierozzo e con l'avvocato di Tonna abbiamo fatto un lavoro attento e curato nei minimi dettagli, perché sapevamo di doverci confrontare con un colosso come Edison e volevamo vincere tutte le partite che erano in campo possibili. Quindi abbiamo vinto al TAR, abbiamo vinto al Consiglio di Stato e la provincia oggi vince anche in Cassazione. Quindi è un risultato che fa chiarezza definitivamente su questa vicenda. Grazie ad Antonio Di Marco, si avvicina proprio l'avvocato Matteo Di Tonno che ha curato gli interessi per la provincia. Vittoria su tutti i fronti, avvocato. Sì, una vittoria su tutti i fronti, in tutte le sedi giuridizionali è un riconoscimento della bontà dell'operato della provincia di Pescara sia in sede legale appunto, ma soprattutto in sede amministrative e distruttoria. È stato molto complesso ricostruire il procedimento di individuazione del responsabile dell'inquinamento perché si doveva partire dagli scarti di produzione per individuare poi l'azienda e quindi la Montecatini che le aveva sversati. E tra l'altro un altro flash avvocato, questa vicenda risale addirittura al 2007 quando la forestale scoprì questi siti, poi diverse sentenze, anche il Ministero dell'Ambiente, l'Arta, il Tar, eccetera, eccetera. Sì, questo testimonia l'estrema complessità della vicenda in termini di bonifica e di individuazione responsabile dell'inquinamento. Ci sono state anche due sentenze, una delle quali negativa al Ministero e poi intervenuta la provincia di Pescara. Grazie avvocato e qui abbiamo il terzo ospite, si tratta di Augusto De Sanctis perché le associazioni ambientaliste su questo territorio si sono battute tantissimo. Lei è il rappresentante di Forum H2O. Insomma, una vittoria, lo ricordavamo prima con l'avvocato, che attendevate, che aspettavate? Sì, noi abbiamo sollecitato, in anni abbiamo fatto le denunce da cui è partito anche una serie di questi provvedimenti. In particolare voglio ricordare una del 2016 in cui scrivemo a tutti gli enti sollecitando l'individuazione responsabile dell'aerocontaminazione. Poi il Ministero ci rispose e sollecitò a sua volta tutti gli enti a prendere questa decisione benedetta che arrivò appunto nel 2018. Oggi sicuramente dobbiamo festeggiare, però per noi festeggiare vuol dire quando questi rifiuti non ci saranno più. Quando? Qual è l'iter in breve? Ci vorranno sicuramente anni, però se non partiamo mai, mai arriviamo. Fra pochi mesi dovrebbe partire la bonifica di un'altra discarica, quella a Tremonti su cui ci siamo battuti tantissimo, finalmente qualcosa di nuovo. Intanto il quadro adesso si è compiuto, diciamo così, e Edison è responsabile per pagare tutti i progetti che devono essere realizzati da qui ai prossimi anni. Grazie, grazie anche ad Augusto De Santis. Carmine, se non ci sono domande da parte mia e da parte del tecnico Andrea Perardinelli, è davvero tutto da Bussi. Grazie Paolo, naturalmente il tuo approfondimento su questo argomento, anche con dichiarazioni più ampie degli ospiti che abbiamo sentito ancora, andrà in onda questa sera alle ore 20.05. Dunque ci rimettiamo anche a questa nuova finestra informativa.